Siamo in compagnia di Dario Campagna, nuovo innesto dell'Alba Calcio pronto per questa nuova stagione del campionato di eccellenza, Gerone B. Sei sicuramente uno dei giocatori più esperti, cosa ti ha spinto a scegliere questa nuova sfida nella tua carriera? Mi ha spinto soprattutto il corteggiamento del mister, chiamiamolo così. Sì, ci siamo in rincorsi per anni e quest'anno finalmente possiamo lavorare assieme, quindi sono molto contento. Sono contento di essere in una società ambiziosa come l'Alba Calcio, quindi carico e motivato per affrontare quest'anno assieme. Nella tua carriera hai vestito maglie importantissime anche a livello di professionisti. Cosa pensi di poter dare, quale contributo pensi di poter offrire in un gruppo nuovo e soprattutto così giovane? Penso che mi metterò sicuramente a disposizione dei ragazzi per consigli, per qualsiasi cosa e darò il mio contributo. Probabilmente sarò uno dei più anziani, ma dentro mi sento che ero giovane, che ero voglia di fare, di dimostrare. Quindi darò tutto a me stesso, come ho sempre fatto, e metterò in servizio i compagni e le squadre. Da diverse stagioni il girone di eccellenza in cui sono inserite le cunesi è sempre più competitivo, comunque con tante squadre che possono lottare per il vertice. Cosa bisogna aspettarsi da questo nuovo campionato? Battaglia, perché penso che comunque in campionati d'eccellenza non ci sono campi facili, meno facili, quindi credo che ci siano società che si sono rinforzate molto, che punteranno sicuramente alla vittoria. Dobbiamo, secondo me, iniziare a lavorare, conoscerci il prima possibile e poi il campo darà i suoi risultati. Grazie per la disponibilità e buona stagione.